Grande successo anche quest'anno per il trofeo Città di Montefalcione giunto alla sua decima edizione. Occhi puntati al cielo per ammirare la gara dei quattro fochisti che si sono affrontati per aggiudicarsi l'ambito premio. Premio che quest'anno però non è stato assegnato perché nessun pirotecnico ha vinto i premi obbligatori per accedere al trofeo. Vince l'apertura con un punteggio di 37.5 la ditta dei fratelli Panella. La bomba di gara è andata alla ditta Nappi e Boccia di Palma della Campania con 36.5 di votazione così come anche il premio bomba da tiro con 113 punti. 37 punti è premio bomba di fermata per la ditta artificiosa dei fratelli di Candia da Sassano in provincia di Salerno. Per il finale di esecuzione il premio è andato alla ditta dei fratelli Panella che ha collezionato un punteggio di 39.5.